Primo grande acquisto per l'Orlandina Basket che ha comunicato l'ingaggio di Bryce Johnson alla centro di 2,6 metri per 95 kg, classe 1994, che dopo una luminosa carriera nelle high school si è messo in mostra in una delle più prestigiose università americane, la North Carolina. Al college Bryce cresce fino a diventare uno dei migliori prospetti universitari. Durante l'ultimo anno di college fa registrare medie di oltre 18 punti e 10 rimbalzi a partire trascinando North Carolina fino alla finale del campionato, conquistando un posto nel miglior quintetto. Successivamente viene scelto col numero 25 al primo giro del draft NBA 2016 dai Los Angeles Clippers. Durante il suo primo anno viene colpito da un infortunio alla schiena e il suo debutto in NBA viene rinviato fino a febbraio inoltrato. Nella stagione seguente dimostra le sue qualità nella squadra di sviluppo dei Clippers, con oltre 13 punti e 9 rimbalzi di media in 23 partite. A febbraio del 2018 viene coinvolto in uno scambio che lo porta ancora in NBA ai Memphis Grizzlies, dove gioca 9 partite con 3 punti di media. Lo scorso anno si trasferisce in Porto Rico agli Indios dei Mayagwets, dove si fa notare con quasi 11 punti e 7 rimbalzi di media. Il primo botto estivo dell'Orlandina Basket prende dunque il nome di Bryce Johnson, un giocatore dal talento cristallino, che a 25 anni si rimette in gioco a Capodorlando dopo aver calcato i palcoscenici più importanti d'America. Soddisfazione espressa dal DS Peppe Sindoni, che spera che Johnson e l'altro americano che firmerà con l'Orlandina, che sarà probabilmente una combo guard, possano seguire le orme di Trish e Barks.